E' stato arrestato ad una settimana esatta dalla tragedia. In carcere il presunto assassino di Joella Ramirez Seipo, il trentotenne dominicano, morto a seguito di una rissa scoppiata all'alba della scorsa domenica fuori da un locale di Terra Nuova, Bracciolini. In manette è finito un connazionale 33enne operaio con precedenti penali rintracciato a Perugia. Una volta avuti dei sospettati e degli indagati, sono stati cercati, sono stati sentiti, alcuni hanno collaborato, altri un po' di meno e raccogliendo tutta questa serie di elementi d'intesa con la tutela giudiziaria si è riusciti poi a ottenere questo provvedimento di costruite cautelare. Fondamentali le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'intera scena. Joella che lancia uno scabello contro il connazionale e lui che risponde scagliando un arghile a forma di teschio, un frammento del quale lo ha raggiunto alla giugolare e alla carotide. Dalle telecamere si capiva che chi aveva potenzialmente potuto effettuare il lancio poteva essere una persona che aveva un tatuaggio e delle scarpe rosse. Durante la perquisizione abbiamo rinvenuto sul sospettato queste scarpe rosse e poi anche ci avevano pure i tatuaggi e perciò sono stati elementi che hanno suffragato l'ipotesi investigativa che avevamo. L'indagato si è anche presentato dai carabinieri nei giorni successivi all'omicidio? Sì, l'indagato ha saputo che lo stavano cercando perché sono andati a fare una perquisizione a casa e poi dalla compagna si è presentato a Perugia e poi durante la notte è stato sentito e ha reso in parte alcune dichiarazioni che erano convergenti con quello che stavamo accertando. Quindi il provvedimento cautelare da parte del GIP stamani l'interrogatorio di garanzia in carcere. Il cavo di impotezione è omicidio volontario, in questo momento è la rissa. Oltre 20 le persone coinvolte nella rissa scoppiata per banali motivi. Sicuramente sviluppi ci saranno, poi bisogna vedere se saranno provvedimenti restrittivi, altri tipi di provvedimenti, sicuramente ci saranno perché ci sono già degli identificati sulla rissa e ci saranno altri identificati. Resta sotto sequestro il locale valdarnese.